E' bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Amici della Serie A Team, un saluto da Davide Romagnoli e benvenuti allo stadio Giuseppe Meazza per Milan Fiorentina. E' l'atto finale del campionato, i rossoneri di Rino Gattuso sfidano i viola per rendere meno amaro questo finale di stagione. Fischia Fabri è iniziata, Milan Fiorentina! Bonaventura, si lotta in mezzo al campo, Bonaventura in avanti perché si, posizione regolare, Cialanoglu dall'altra parte, che si in area resiste, ancora che si, Sportiello, poi Cutrone! Pallone a lato, non di molto! Qui un altro pallone perso dalla Fiorentina, in area Bonaventura al limite, ci prova con Sportiello e bravo ancora Bonaventura! Chiesa converge verso il centro, pallone a limite nel fuorigioco per Simeone, tocco sotto! Il ciolito Simeone al ventesimo! Porta in vantaggio la Fiorentina, gelato San Siro! Fischia Fabri! Va Cialanoglu col destro! Accancella Cialanoglu! Pareggia subito al Turco! 1-1 San Siro! Al ventitresimo! Buonaventura! Arriva Chessy, entra in area, Chessy si allunga il pallone! Sportiello in chiusura, prende anche un colpo il portiere della Fiorentina! Ha lasciato lì il piede Livoriano, cartellino giallo per il centrocampista del Milan! Chessy, in avanti, in area, lato corto, Cialanoglu spalla alla porta, prova a girarsi, la finta, ancora Cialanoglu, cross, Cutrone! Patrick Cutrone in anticipo, sul primo palo, di testa, 2-1 Milan! Che si, prova a puntare, uno contro uno con Olivera, che si, lascia Kalinic, spalla alla porta, Cutrone! Esterno della rete, ha provato di potenza, Patrick Cutrone! Fischia, Fabri, riparte, Milan-Fiorentina! Rientra, Buonaventura, una sguardina in avanti, chiede l'1-2 con Kalinic, il croato, prova a girarsi! Cialanoglu, ne ha due addosso, cerca lo spazio, il cross, per Cutrone! Sportiello, il pallone rimane lì! Kalinic! 3-1 Milan! Il gol di Nicola Kalinic! Cialanoglu, zona tiro, imbucata, a destra, Cutrone in aria, Cutrone! La doppietta di Patrick Cutrone! Poker del Milan, 4-1, festeggia il pubblico rosso-nero, col piattone destro, Patrick Cutrone! Cristoforo, Saponara, lascia passare, Benassi! Donna Rumma, col guantone, pallone sul fondo! Buonaventura, la finta a bocca, un'altra volta Cristoforo! L'avanzata di Buonaventura, che prova a mettersi in proprio! Buonaventura, cerca lo spazio, Buonaventura! Gran gol di Jack Buonaventura! Cinquina Milan! Fa festa anche il numero 5, rosso-nero! Triplice fischio di Fabri! Il Milan stravince contro la Fiorentina! 5-1! E chiude il campionato al sesto posto! Si qualifica ai gironi di Europa League! Si qualifica ai gora detti, Grazie a tutti.